Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, per adesso vi stiamo torturando, siamo la vostra spina nel fianco, vi raccontiamo le elezioni regionali e le elezioni politiche, siamo ormai al rush finale, tre giorni e si va a votare il 25 settembre, oggi abbiamo con noi Ismaela Vardera, candidato con Cateno De Luca, anche portavoce di Cateno De Luca, peraltro ci è appena arrivata in diretta notizia online direttamente, noi stiamo registrando questa puntata, non c'è bisogno che prendiamo in giro le persone, però è arrivata notizia ai domiciliari per un candidato di Fratelli d'Italia, ma insomma, questa Sicilia non si smentisce mai, questo diciamo potrebbe essere un argomento in più, come dire, per sostenere la battaglia che stai combattendo insieme a Cateno De Luca, no? Guarda, io ricordo nitidamente in questi studi televisivi la mia comparsa quattro mesi fa circa, avevo fatto questa scelta di… Ma erano a Talk Sicilia o era a Casa Minutella? Casa Minutella. Casa Minutella, sì. Casa Minutella, detti la notizia della mia candidatura con Cateno De Luca, venne a fare questa intervista, c'erano molti sorrisini da parte anche di tante persone, tanti amici, tanti colleghi, dice ma che fai, ma sei pazzo, ma con chi… Io mi sono iscritto a quelli che ti criticavano, ma sai perché ti dicevo questo, perché… Con Cateno De Luca, dove dovete andare, cosa dovete fare… No, non era questa la mia prospettiva, come pensai. No, la tua no, però devo dirti molto… Era la tutela del tuo posto di lavoro, sai che… Sì, sì, no, certamente poi… Con una bella carriera, come dire, non… Ho fatto una scelta coraggiosa, devo dire, perché, ripeto, nella mia vita televisiva ho lavorato, come molti di voi sapete, per il programma Le Iene, devo dire che era in una fase anche di molta scesa, avevo fatto anche dei servizi molto importanti come inviato del programma in Ucraina, mi stavo occupando di cose decisamente importanti e devo dire che avevo un momento importante nella mia carriera. Tagliarla così, per un progetto politico che per carità era ancora nascente, non si sapeva che cosa potesse succedere, è stata una forte scommessa, ma io ci ho creduto perché credo che poi alla fine c'è un momento nella vita in cui ciascuno di noi deve fare i conti e deve dire cosa voglio fare io per la mia terra. Io sono un profondo amante della Sicilia, io la amo profondamente perché me ne sono dovuto andare via da questa terra quando avevo 22 anni circa e ogni volta che ci tornavo io stavo male, letteralmente male al dover chiudere le valigie e tornare a tornarmene lì a Milano perché dovevo lavorare, per carità, dovevo lavorare. Quindi ho detto sempre, mi ero sempre ripromesso, se ci saranno le condizioni di provare a tornare e provare a fare qualcosa, cioè provare a cambiarla, io tornerò. Ci ho provato 5 anni fa da candidato sindaco di Palermo e non è andata benissimo perché mi sono dovuto scontrare ancora con quella vecchia politica becera del doubt des, dello scambio, del cosa vuoi in cambio in base al fatto che tu ti candidi o meno, l'ho toccata con mano. Però perdonami Ismael, ho capito che il tuo ragionamento è questo, la mia grande passione per la Sicilia mi ha quasi costretto, mi ha comunque indirizzato a fare anche una scelta coraggiosa in termini professionali di dire mettere un attimo nel freezer quella carriera che stai costruendo. Hai fatto anche un riferimento preciso alla Sicilia del compromesso, degli scambi, che hai visto quando ti sei candidato a sindaco di Palermo, con le polemiche ci fuori nei tempi, lasciamole proprio da parte perché ci sono delle sentenze dei tribunali quindi sarebbe veramente ridicolo. Che dicono che la mia candidatura era una candidatura vera. Poi se un giornalista ci ha fatto un documentario, complimenti, non c'è motivo, ma non è di questo che volevo parlare. Rispetto a quel periodo storico dei compromessi della Sicilia, del doubt des. Oggi che da quattro mesi sei in giro per la Sicilia, per sostenere la tua candidatura all'Assemblea Regione Siciliana e la candidatura a Palazzo Lorenz di Cateno De Luca, cosa respiri? Perché il talento del giornalista di inchiesta immagino che non l'avrei perso. Non è cambiato nulla, non solo non è cambiato nulla, ma è peggiorata la situazione, perché cinque anni fa almeno certi soggetti avevano il rossore di non presentarsi in prima persona che stavano dietro le fila. Io ricordo che si annoverava e si voceperava con un involgimento di Totò Cuffaro nella candidatura di Fabrizio Ferrandelli. Era una cosa che tutti sapevano, ma non si diceva apertamente, perché si evitava di creare imbarazzi. Perché ancora Cuffaro aveva il rossore di poter dire sai che c'è, me ne sto un po' fuori. Adesso invece certi soggetti diventano fondamentali, centrali nel dibattito pubblico, diventano anche partecipanti ai tavoli politici. Questo fa capire che questa terra, la terra di Sicilia, deve avere il coraggio di mettere un nuovo inizio. Deve cercare di fare una tabula rasa e partire da zero. Partire da zero con quelle persone che hanno veramente saputo amministrare, dimostrando di essere amministratori. Perché una delle cose che ci dicono, ma noi siamo urlatori, siamo gente che dice, ah ma le cose non cambieranno mai, perché siamo lì a dire che non cambiano. Però Cateno De Luca, che è il presidente che ho deciso di appoggiare, dove ha amministrato, ha lasciato capacità amministrativa. De Luca scherzando di se stesso si definisce un sindaco Mariemonti, perché lui ha amministrato sia territori montani, sia territori marittimi, Fiumedini, Santa Teresa di Riva e poi Messina, dove comunque ha lasciato un ottimo ricordo. Ha lasciato un ottimo ricordo e non lo diciamo io e tu, lo diciamo anche rispetto al fatto che quattro mesi fa, o anche qualcosa in meno, Messina ha ridecretato sindaco una persona che ha scelto Cateno De Luca. Cioè significa che talmente è bene amato da Cateno De Luca che non solo quando si candidata lui vince, ma quando decide di candidare una persona della squadra e la gente si fida di Cateno De Luca anche per interposta persona. Quindi vuol dire che anche a Messina abbiamo vinto al primo turno contro tutti. C'era la stessa identica situazione che si sta riproponendo adesso. Cioè il centrodestra unito, compatto, i vari Lombardo, Cuffaro e Micichie sempre a fare i soliti banchetti contro di noi. Noi abbiamo vinto a Messina al primo turno e giravano anche dei sondaggi farlocchi qualche giorno prima che davano il centrodestra vittorioso. È come se la storia si riproponesse, è come se oggi stesse accadendo la stessa cosa. Vi prego amici che ci state seguendo da casa, non vi lasciate influenzare dal cosiddetto voto vincitore di Schifani. La partita è apertissima. Gli addetti ai lavori sanno che questa elezione si vincerà sul filo di lana e soprattutto noi siamo lì. Siamo pronti per vincere, siamo pronti per governare, siamo pronti per dare un'alternativa. Perché io dico se volete Schifani, volete tornare al passato, volete tornare ai soliti soggetti che hanno amministrato la cosa pubblica, siciliani fate pure. Ma io non credo che voi volete questo, volete cambiare questa terra, avete il desiderio di cambiamento. Io ci credo, vi faccio un appello che viene dal cuore. Facciamo, mandiamo a casa i vecchi volponi della politica. Quando sono nato, Renato Schifani ho 29 anni, era già seduto agli scranni del Parlamento. Cosa ha portato di cambiamento alla nostra terra? Beh, loro sostengono che, diciamo, un impossibile asse Palermo-Roma potrebbe portare dei vantaggi alla Sicilia, no? Un governo di centrodestra a Roma... Ma lo abbiamo avuto, lo abbiamo già avuto. Schifani era presidente del Senato, una delle cariche più importanti della nostra Repubblica, se non la terza, la seconda, perché il presidente della Repubblica e poi il presidente del Senato. Stiamo parlando che questi qua hanno avuto ruoli chiave. Ma dove erano quando c'era da difendere i diritti dei siciliani? Dove erano quando c'era da applicare l'autonomia siciliana? Dove erano quando i siciliani chiedevano una mano d'aiuto per essere non la coda, ma la testa d'Italia? Dove siete stati? Perché adesso dovrebbe cambiare qualcosa? Ecco, è necessario dare fiducia a una persona che è vero, perché noi non diciamo di essere verginelli della politica. Però Ismere, perdonami, è chiaro, fin qui la protesta ci sta. Tu stai facendo un'analisi del partner politico, dei competitor di Cateno De Luca. Tu, diciamo, in questo momento apprezzo la tua lealtà, nel senso che più che sostenere la tua candidatura, tu stai puntando, con il tempo che hai a disposizione, stai puntando a raccontare chi è Cateno De Luca. Ma appunto per questo. Passiamo un attimo dalla protesta, dalla proposta, nel senso, i competitor sappiamo quelli che sono. Tu hai citato soltanto Schifani, proprio non hai tenuto in considerazione né Di Paola. Sono fuori dei giochi, tecnicamente. Cioè io ritengo che la partita, e lo sanno anche gli elettori del centro-sinistra e dei 5 Stelle, anzi a loro rivolgo... 15 giorni fa un sondaggio del Corriere della Sera vedeva Cateno De Luca aggrappato alla gola di Schifani, nel senso che è politico del... Infatti io credo che si stia proponendo questa situazione. Gli elettori di centro-sinistra, gli elettori dei 5 Stelle, pur votando la propria lista, quindi il Partito Democratico dei 5 Stelle, coscientemente, dico anche scientemente, stanno facendo una scelta strategica di votare per Cateno De Luca, perché tutti quanti sanno una cosa, che Renato Schifani non è la soluzione alla Sicilia. Quanto meno votano Cateno, io so per certo pezzi importanti del PD, pezzi importanti dei 5 Stelle che stanno facendo, in questo caso ci sta un voto utile verso Cateno De Luca, quindi la sorpresa che arriverà sarà proprio questa. Tu dicevi oltre la proposta politica che offrite alla Sicilia. Guarda, noi a differenza degli altri candidati, scusami, ma la devo per forza fare, cioè noi non abbiamo inaugurato le campagne elettorali qualche giorno fa, io sorridevo quando vedevo i miei competitor inaugurare la campagna elettorale il 14 di settembre, ma non ha testato, c'è nel senso prima, io da sei mesi vado in giro a bordo di una panda per cercare di raccontare la sua vita. Peraltro, aneddoto, la panda ieri ti ha lasciato, dove eri però, a San Cipirrello, dopo tanti mesi. Questa coraggiosissima panda, bellissima, personalizzata. È caduto il cambio, tecnicamente. Si è rotto il cambio. Si è rotto il cambio, il cambio non cambia. Però, attenzione, non sei scaramantico, non c'è tempo per un cambio in realtà in questo momento. Può essere una profezia, mamma mia, che ti sta dicendo, speriamo che non sia così. Infatti io dico sempre, la panda è stata così con me, amica di compagna, amica di viaggio. Allora rovesciamo il problema, già si è rotto un cambio, quindi a questo punto è necessario fare un cambio. Perdonami questo gioco stupidissimo di parole. Non lascerò lo spirito del pandino, lo chiamo così. Stasera uscirà un video molto bello stasera per gli elettori. Io farò un ultimo post con un video che racconta questi mesi. Io ho raccontato questi mesi in che maniera? Ho raccontato dei territori come le madonie stupende, straordinarie lasciate abbandonati, il diritto alla salute negato di quei paesi che non hanno nemmeno un medico di guardia, San Mauro Castelverde, posti straordinari. La gente chiede una Sicilia normale, una Sicilia in cui la sanità non sia appannaggio di pochi, non sia cricca di alcuni, non sia diritto negato. Anche per fare un attacco in un ospedale pubblico c'è gente che deve chiamare gli amici primari, amici medici per avere un diritto sacrosanto. Questo non ce lo possiamo permettere. Le Mille Romagne è la prima regione in Italia come capacità di amministrativa sanitaria perché è riuscita a scollare la politica dalla sanità. Quando noi la smetteremo di usare la politica con nomine per la sanità sarà una sanità libera, una sanità di tutti, una sanità in cui non ci sarà l'amico dell'amico a prevalere. Ecco, una delle priorità del nostro programma è questo, per non parlare delle infrastrutture, non esistono, ci sono territori che non hanno nemmeno le strade, ci sono dei territori come Belmonte e Mezzano. Come volete risolvere il problema delle province? Perché parlando di territori e di strade, quello è come dire, da quando è stato collassato il sistema delle province non ci fa più manutenzione delle strade. Io credo che se tu togli alla gente capacità rappresentativa, togli il loro potere. Viviamo in una democrazia, se tu togli dei istituti democratici, come ad esempio le province, togli loro un'opportunità di poter almeno appellarsi a quella, ci sono degli agricoltori che hanno delle strade provinciali che veramente sono disastrate e mi raccontavano, diciamo, almeno io prima veniva alla provincia, parlavo con un signore provinciale e quantomeno avevo un ascolto, adesso devo andare nella città metropolitana di Palermo che forse mi riceve il sindaco che a sua volta deve... È un casino, cioè io credo veramente che come l'abolizione dei senatori parlamentari, cosa che non ritengo opportuna, perché io dico che se c'è un problema nella politica, tu non tagli la rappresentatività, tu almeno sistemi il sistema, scusate il gioco di parole, e cerchi in qualche maniera di ridimensionare anche magari gli stipendi, perché io sono d'accordo... Alfa Macque con il famoso libro di Stella Lacasta, tutti giù a massacrare i politici... Io sono d'accordo anche al fatto che prendere uno stipendio per un parlamentare regionale è esagerato, lo dico per prima, io anzi dico agli amici di Blog Sicilia che è un'idea che io porterò avanti a proposito di stipendi elevati, una parte del mio stipendio la dedicherò a un fondo speciale che io darò, perché se no hanno i miei soldi e potrò farci cosa voglio, per un progetto annuale, una volta l'anno farò una grande manifestazione, il festival delle idee, quel fondo che metterò da parte con i miei soldi restituiti ai cittadini servirà ai giovani imprese per avere un'idea, datemi un'idea, io finanzierò un vostro progetto e questo è un po' una delle cose che voglio fare, anche perché poi alla fine onestamente 8 mila euro al mese sono esagerati, sono troppi, la politica deve anche vivere la dimensione naturale e reale, deve anche capire quali sono le esigenze, ma non è populismo, questo è in realtà, cioè quel palazzo è lontano dai bisogni della gente, quel palazzo non sa che ci sono persone che non possono pagare la luce perché ci sono i rincari della bolletta, quel palazzo non è rappresentativo, la gente si vergogna di essere siciliano, noi vogliamo invece portare la gente a essere, non di essere siciliano, perdonatemi, di essere rappresentato da quella classe politica siciliana, noi vogliamo portare la gente a essere orgogliosa, questa è una cosa che non ce la restituirà a nessuno, la gente ci ferma per strada di che ci state rendendo orgogliosi di essere siciliani, se mi permettete questa è una cosa straordinaria. Ma detto questo, parlando di altri problemi, soprattutto hai fatto cenno al rincaro energetico, tu quanti chilometri hai fatto e che cosa si respira nei territori di questa bomba a orologeria che il cui tintinare si sente sempre più forte? Ma guarda io non so quanti chilometri abbia fatto quella panna, non so quante persone... Il spirito del pandino comunque... Ma lo spirito del pandino è l'esempio del fatto che poi è un mezzo di lavoro, ricordo quando io vivevo la misilmerita piccolo, veniva a suonarci col clacson, io mi svegliavo col cazzo della panda che vendeva le treccine e le pizzette, lavorava dentro un ragazzo che faceva questo di lavoro, faceva il panettiere, si svegliava e poi girava col pandino, cioè è l'esempio del lavoro, della dignità delle siciliane, il senso di laboriosità Il senso della laboriosità che ti inventi sempre qualcosa e quando poi parli di politica ti sputano in faccia perché dicono ma noi viviamo, lavoriamo, ma la politica dov'è? Dov'è quando abbiamo bisogno di cose normali, non chiediamo, ora in questi giorni questa cosa mi fa arrabbiare, mi fa veramente arrabbiare, tanti ancora stanno aspettandosi delle promesse, è una notizia questa che te la do, io ho mandato un messaggio a una persona, mi ha risposto se mi dai 100 euro di voto e questo è qualcosa di incredibile, ancora oggi, a me me lo chiedono se mi dai 100 euro di voto con tanto di screen su Facebook, ma questo deve farci arrabbiare, ancora pensate di poter... Ma questo è cattivo costume e la disperazione? Ma io non lo so che cos'è, io mi vergogno di gente che ancora venda il proprio voto, vende il proprio voto, vende la propria dignità, alziamo il capo, non lasciamoci vendere per il culo di quelli che vi stanno promettendo posti di qua, posti alla forestale, vi pigliano per il culo come hanno fatto in questi anni, svegliamoci. Eh ma questo comunque è un cattivo costume che è diffuso su livello regionale che è nazionale. Non so, io non dico che è un problema siciliano, perché onestamente anche il PD ha detto faremo 300 mila assunzioni di pubblica amministrazione, poi improvvisamente il milione di posti di lavoro di 20 anni fa di perlusconi è diventato un milione di alberi, no? Quando parli di pubblica amministrazione, di assunzioni diciamo di comparti, ci sta, ma quando parli invece di assunzioni clienterali uno a uno, come stanno facendo tanti altri candidati, io mi stai segnando tutte le cose, ho un bel balloppone, a fine di campagna elettorale una bella denuncia alla procura lo farò, perché questa è la mia cifra, quando io dico le cose poi le attuo, come ho fatto 5 anni fa quando un boss della mafia a piatto in calza mi ha fatto entrare nel suo sgabuzzino e mi ha proposto 30 euro a voto, io l'ho denunciato, l'ho registrato e l'ho fatto arrestare. Ecco, la politica deve avere anche il coraggio di dire da che parte sta e che quei voti non li vogliamo. Non ti immaginare, anche a me mi sono venuti a tupulare soggetti un po' borderline, io l'ho messi alla porta, perché non credo che per un voto devo perdere la mia storia, la mia storia vale più di un voto. Quindi siamo ancora in una fase di legalità di facciata, si fanno questi programmi di legalità e poi i voti si fanno a raccogliere nei territori con i mamma santissima. Non c'è scrupolo, perché se quella volta mi ha portato lì, quello che stai raccontando tu è angosciante, perché sembra essere ritornati alla Palermo degli anni 70. Anzi, io l'ho raccontato pubblicamente, io ho fatto una denuncia pubblica e quella denuncia è attualissima, tecnicamente mi ha portato lì un consigliere comunale, ex consigliere comunale da un boss senza farsi nessuno scrupolo. Io me lo sono fatto, chiaramente l'ho mandato affanculo, scusate il termine, ma gli altri cosa fanno? Perché gli altri pur di prendere un voto in più di un altro, renderebbero la loro anima al diavolo. Noi questo non lo facciamo, noi non siamo questi, io non sono questo. Ora io dico, i politici diranno farò, guardate ciascuno di noi quello che abbiamo fatto, quello che noi abbiamo fatto, e c'è, esiste, resiste, la mia storia, la mia vita, googleabile, fate quello che volete, cercate quello che sono state le mie battaglie per la Sicilia. A me mi lega una cosa con Catano De Luca, la pragmaticità. La politica deve essere pragmatica. Io quando c'era un problema da risolvere, anche al di quale Iene, prendevo, partivo, risolvevo problemi. Questo è anche la cosa pratica. Catano De Luca è una persona pragmatica, e questa è la nostra idea di sindaco di Sicilia, non governante supremo chiuso al palazzo, ma un sindaco che quando c'è un problema scende per strada, la buca non funziona, l'illuminazione non c'è, si rende conto dei problemi della gente. Ecco, la cosa che deve fare la politica è tornare a vivere i problemi della gente. Questi non hanno idea di che cosa significa non poter mettere un piatto di pasta sul tavolo. Io sono cresciuto anche allo Zenne, e so cosa significa avere la fame, so cosa significa avere difficoltà economiche, so cosa significa patire la fame, ma la mia vita è stata sempre questa voglia di rivalsa, di riscatto, ma non dimenticherò mai le mie origini. Quindi il quadro che tu ci stai raffigurando è c'è una torre burnea dove la casta della politica siciliana, con tutte le sue contaminazioni, continua a comportarsi come se 20 anni, 30 anni di antimafia non fossero mai esistiti, e dall'altro canto c'è un elettorato attivo, che comunque è sempre succube e disposto a far prevalere un atteggiamento clientelare. È un quadro trammato. E dall'altra parte però c'è una parte dei siciliani che tributa un progetto neonato, da poco, qualcosa come il primo partito, lo dice il Corriere della Sera, il partito che io oggi rappresento, di cui sono fieramente capolista. Questo ondaggio ha fatto tremare parecchi… Il primo partito in Sicilia, la mia lista, De Luca sindaco di Sicilia, il progetto De Luca sindaco di Sicilia, è il primo partito in Sicilia. Ricordiamo che sono candidato a Palermo e tutta la provincia, mi potete sostenere a Palermo e tutta la provincia, sono capolista di quella lista. Se noi siamo diventati primo partito vuol dire che non è soltanto quel quadro scuro e oscuro, c'è anche gente che vuole liberarsi. Tu sai che la regola dei giornalisti, la notizia è l'uomo che morde il cane. The bad news is a good news, dicono gli inglesi, una brutta notizia è una buona notizia, però il problema è un altro. A proposito di inglese, tu hai scovato una cosa, me lo stavo quasi per dimenticare, abbiamo ancora cinque minuti per raccontare la tua campagna elettorale, tu ci hai messo di fronte a un problema che non è mai stato affrontato, c'è un sacco di, non soltanto ragazzi di siciliani all'estero, che il 25 settembre potranno votare per le politiche, ma la scheda verde, quella per la regione, non l'hanno ricevuta. Questo è un altro dramma. Tu sei andato a Londra. È un altro dramma nel dramma. Una follia. Perché tanti giovani che vivono all'estero in generale, ma non soltanto i giovani, c'è anche gente che... Tantissimi che sono andati via, ecco, e comunque hanno ancora la residenza in Sicilia, questo è un dato importante, non possono votare, in quanto nel plico che arriva all'estero, il cosiddetto plico con le schede elettorali, non arriva alla scheda per le elezioni regionali, cosa incredibile. Cioè, a loro, noi neghiamo il diritto sacrosanto al voto e gli chiediamo di venire a votare in Sicilia, quando i prezzi dei voli sono alti. Ora, se è così, applica dei voli scontati, anche al 70-80%, perché è il diritto di esercitare la democrazia, o almeno poniti il problema di spedirgli la scheda verde, nessuno ci pensa. Io sono lasciato le mie campagne elettorali, anche in una versione di non doubtless, perché questi che sono andati a trovare non mi possono votare, però ho detto, ci vado lo stesso, me ne vado a Londra, lì ascolto, ho pubblicato ieri sera un video sulla mia pagina che sta esplodendo, proprio perché ho parlato di questo tema. Cross finger, come dicono a Londra, se diventi parlamentare o generale, mi fai la promessa che il tuo primo disegno di legge è un disegno di legge per risolvere questa schifezza. Assolutamente, ma questo, come tanti altri... Poi ci sono cose che probabilmente sono più gravi, l'emergenza abitativa... Questo io lo farò perché il diritto alla democrazia è negata. E da lì si parte. Per i giovani siciliani che non hanno lasciato la Sicilia, perché questa terra si è dimenticata, perché ricordiamo, questi se ne sono andati via non perché volevano imparare l'inglese. Qualcuno l'ha fatto, ma perché qua non si manciava. C'è gente che ha lasciato paesini dove non potevano partire. Ma io qua o lavoravo, o me ne andavo, o morivo di fame. Ora, tu vuoi andare via... Poi però ci sono i polizzi che ti dicono che dobbiamo destagionalizzare fusti turistici e promuovere l'eccellenza dell'agroalimentare. Se tu vuoi andare via... Con territori a crescita zero, come si fa? Se tu vuoi andare via perché vuoi imparare una lingua, vuoi accrescere la tua cultura, è sacrosanto che tu vada via. Ma se tu te ne vai perché non tirano le condizioni socioeconomiche per poter rimanere, è un dramma. Purtroppo questa terra, caro Piero, io ieri sera ho fatto un aperitivo al centro, a Piazza Massimo, mi aveva preceduto un uomo, uno dei uomini più potenti di Sicilia. Questo tra l'altro, io ho le prove e testimonianze di quello che dico, questo farà parte anche della mia denuncia. Quest'uomo che è arrivato lì ha promesso a tutti il suolo pubblico. Votatemi, vi darò il suolo pubblico per tutti. Lì a Piazza da Ruvolo, questa cena è venuta da Ruvolo, non ho paura a dire queste cose, senza problemi. Quest'uomo che ha fatto questo e che andava in giro a promettere il suolo pubblico per i commercianti, devi farli, ti devi vergognare. Perché questa se la politica è becera così e prendi in giro gli elettori, questo è qualcosa di drammatico. Bisogna svegliarsi, svegliatevi, non vi fate prendere in giro da promesse inutili. Peraltro, tutto tutto, va anche detto che apparemmo una città meravigliosa, che ha un patrimonio culturale e artistico che non ha pari al mondo, perché c'è il sincretismo di tante culture, e sarà trasformata in una gigantesca pizzeria a cielo aperto. Che ci sta? La gente deve lavorare, però diamo un criterio, come dire che salvaguardi anche la bellezza artistica del territorio. Guarda, fin quando si dà la possibilità a un imprenditore che ha avuto anche un momento difficile del lockdown e di avere anche uno spazio in più per avere qualche tavolo in più fuori, io sono d'accordo a questo, perché almeno, quantomeno, c'è un respiro. Si vanno dietro l'altro in tutto il centro. Lo capisco, va bene la regolamentazione, poi quello è anche in capo al comune di Palermo, è giusto, però andare in giro, in campagna elettore a tre giorni, a dirti io ti faccio fare il suolo pubblico, ma veramente io dico, ma siamo veramente a questo stato di cose. Vi prego, vi prego, svegliatevi, non date fiducia a questi soggetti che vi prenderanno solo in giro. Io non ho fatto una promessa da quando sono qua a parlarvi, non lo farò né io né Catrano De Luca. Io ho un dubbio atroce. Qualche mese fa abbiamo sentito Catrano De Luca, che ci racconta, abbiamo visto un suo video, ci racconta che lui aveva la lanternina con la candela, ma tu sei stato sottoposto al testo della lanternina o visto che comunque sei un personaggio noto a livello nazionale, un giornalista di inchiesta, hai passato il testo della lanternina? Io ho passato il testo di fuoco, perché il mio avvicinamento con Catrano è avvenuto da un litigio. Io sono andato a fare un servizio contro Catrano De Luca, le Iene, no? Poi non hanno in onda per una serie di taggioni perché poi c'è tante cose che abbiamo fatto e poi magari non vanno pubblicate. Ma quindi io mi litigai con obbi Catrano per un litigio con lui. Poi, dopo qualche mese, sei mesi fa da sindaco, sono stato, posso dirlo umilmente, che sono stato uno dei primi ad aderire al Movimento di Sicilia della Verra quando ancora Catrano De Luca non aveva questo grande appille su Palermo, a Messina tantissimo. Quindi mi voglio prendere questo merito se mi permettete. L'ho fatto perché ci ho visto lungo, perché credevo che questa persona è una persona straordinaria. Più lo minimizzate, più lo prendete in giro, più dite dove deve andare, più questo va a fare il Presidente della Regione. Noi vinceremo, noi andremo a governare questa Sicilia, noi cambieremo tutto. Allora, perfetto. Diciamo, il tempo a nostra disposizione è finito. Io, Ismaria, ti ringrazio, però ti devo strappare anche una promessa. Mi prometti che cercherai... Vuoi anche tu lo solo pubblico? No, io ti chiedo... Non te lo posso dare. Io avrei bisogno di tanto solo pubblico perché sono un po' ingrassato e volumetricamente non ti conviene questo voto di scambio. Io ti strappo un'altra promessa, già me ne hai fatta una sul voto dei siciliani all'estero per le regionali. Stai a te, la smetti di fare i video con la mamma perché ogni volta mi fa venire il coccolone, ogni volta che vedo che fa vedere qualche cosa a tua mammalina, a tua meravigliosa mammalina, ho la paura che... So che ti leggo un amore infinito a lei. È l'arma segreta. È l'arma segreta. Più tardi andrò a Carini, a parte lì. Mammalina, le mandiamo un grande abbraccio, la ringraziamo per averci donato questo splendore di giornalista e vediamo un po' se diventa anche deputato regionale. Però Ismaele, dai, non è che le devi fare lo scherzo, mamma ti faccio vedere il video perché noi magari divertiamo, però ogni volta a vedere la mamma un po' si preoccupa, non ci... Ma a lei si preoccupa ma in realtà gli piace perché è una grande attrice e vuole fare... Ma è vero che voleva andare con te in campagna elettorale? No, stai andando. Da ieri è con me ufficialmente in questi... Io ovviamente non la potevo portare ad agosto dentro la panda senza era condizionata. Lei mi ha assillato, dice io gli ho promesso gli ultimi tre giorni vieni con me. Lei ufficialmente sta presentando a tutti i miei appuntamenti, più tardi saremo a Carini, stasera saremo a Partinico, domani sera chiuderemo la campagna elettorale venerdì a Piazza Politea, ma anzi vi invito, sogno di tornare qui da deputato regionale, se voi vorrete. Va bene, in bocca al lupo Ismaele, ci sentiamo il 26, vediamo com'è andata, noi abbiamo registrato la tua profezia, crossfinger. Grazie Ismaele LaVardera, grazie che ci ha seguito a questa puntata di Talk Sicilia, ci vediamo presto, arrivederci. Grazie Ismaele LaVardera, Grazie a tutti. Grazie a tutti.